Verdi colline e distese di campi. Nell'immaginario collettivo il paesaggio toscano è così, ma le nostre culture sono a rischio. La concorrenza estera spesso fa crollare i prezzi del grano nostrano e rende sempre meno vantaggioso lavorare la terra. Per dare una mano all'economia locale per salvaguardare il nostro territorio è nato un progetto di filiera di Unicop Firenze. 100% toscano dal grano alla farina fino alla lavorazione, questo l'impegno per tutto il pane sfornato nei punti vendita a Copfi con panificazione interna. Una novità che ha debuttato a Siena Grondaie e che ora sarà estesa in altri 26 punti vendita scritta a chiare lettere sul sacchetto del pane. Per i nostri soci e consumatori è un vantaggio che si traduce in una maggior qualità e garanzia sulla provenienza del grano e della farina. Questo grano compie un percorso brevissimo per arrivare dai campi al molino e poi ai nostri 27 panifici presenti nei punti vendita dove i nostri cento fornai quotidianamente sfornano pane a questo punto completamente di filiera toscana. Quattro mulini toscani e quasi 40 agricoltori coinvolti tra la Maremma, la Valdensa e la Piana Pisana. Sono questi i numeri del progetto che mette a ripare i produttori locali dalle speculazioni del mercato. Unicop e Firenze stabilisce il prezzo del grano prima della semina in modo da garantire agli agricoltori una giusta remunerazione, circa il 30% in più rispetto al prezzo medio del grano. Grazie appunto a questa volontà di produrre il pane da sola farina toscana contribuiamo alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio toscano garantendone annualmente la coltivazione di oltre 1.500 ettari di terreni appunto coltivati a grano tenero e a grano duro. Finora solo il pane comune, quello senza sale, era prodotto con farina toscana. Oggi anche gli altri tipi come la ciabatta o le pagnotte di grano duro vantano questo primato. Ci è voluto un anno di lavoro per selezionare le migliori varietà di grano. A pieno regime il progetto di filiera permetterà ogni anno di sfornare 5 milioni di chili di pane e schiacciate di filiera toscana.